La valigia ed io è una scelta. Cosa avrei portato e cosa avrei lasciato per sempre? Perché dovevo andare e quando devi andare non sei tu che decidi. La vita è lei che ti porta. Mangiai, pochissimo o nulla. Non so come mi trovai in strada. La valigia con me pesava niente. Certamente non aveva il peso della solitudine che sentivo sulle spalle. Eppure altri intorno a me, uomini e donne, ognuno col proprio bagaglio di sogno, speranza e malinconia. Insieme sembravamo un gruppo. A ben vedere eravamo una piccola folla di singoli.